Il morto... no niente non parlo raga perché sono molto contento Non ci prega niente uno c'è l'altro Esatto, no però è una cosa divertente E l'è morto, e l'è morto Lo so frigo, lo so frigo, lo so frigo Ok entrammi in sito, su la porta Su l'altro lato della porta Oh shit, ma man Oh fuck Thanks man L'idgetto è andato L'idgetto è andato L'idgetto è stato morto L'idgetto è stato morto L'idgetto è stato morto L'idgetto è morto E' come... E' come pulz castle E' come pulz castle E' come pulz castle Strogato Aiuto Do you abuse like cocaine or... Cocaina? Cocaine al massimo Ho detto cocaine infatti Cocaine Il samurai è andato a Napoli A Napoli A Napoli Occhio per i rubbers Occhio per i rubbers Occhio per i matriam bro I fuck them Io mi fuck i ladri Occhio per i rubbers E' come pulz castle 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 Occhio per i rubbers E' come pulz castle E' come pulizzo 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 E' so che Ricky quitterà Non sono riusciti Oh my god Roasted No, no, no morti due c'è un altro e i bacchi erano sopra ok ok entrammi botteria parlavo con giulio c'è uno a terra è l'ultimo oh my god ma sono così f***o retardi sono così f***o retardi bro infatti si non capisco che ha fatto il my c'è morto e il bano è caduto a terra mi butto pure io si si morto eh quello che era sotto era dock penso bravo il drone in armor lo ha dato al bucato di armor lo era fatto lo è morto no ti odio morto a camera a casa bello no l'ho detto anche nel nome sono troppo che bano è morto bravo bravo ti ho letto rompi pettini me n'è morto metà vita archivi guarda 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 guard Ahahahahha No, 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 no. Vabbè uno ha vinto ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Guarda tu Yello Bamba uno blu mi sparava Da sotto Morto uno Boh è Vigi l'ultimo C'è nessuno in sito? È da dietro Mi è andata giù la mira col mouse a caso Cioè il mouse ha deciso di buttarmi giù la mira a caso Senza che facessi niente Vigi quando attiva la sua abilità che dice ok Oh cazzo Cosa? Ma non lo so io manco esco mi ammazzo Ah mi ha ucciso Ah lui Anche la porta lì Morto legion Morto è morto Morto è morto Cosa? 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 Sì, è vero. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. C'è nulla! c'è un altro bravo da dietro e da dietro vittato fate cose strane si sta battendo la botola no togliti montagna what the fuck what the fuck